Accensione Extreme Rules 2018 Scena niente, take in nulla Oh, bentornati ragazzi sul canale dei Sanity Boys Oggi siamo qui con la recensione di Extreme Rules 2018 La regia non c'è perché diciamo tutto insieme 3, 2, 1, dili no, 3, 2, 1 Eh, andato in Messico per problemi qua Ah, solite cose che non stiamo lì a indagare Allora, la recensione di Extreme Rules 2018 Allora, c'era una recensione diversa da tutte le altre Non c'erano match, scusate, non c'erano voti per ogni match Perché non dico proprio più che non se lo merita Ma ci andiamo molto vicino Io dico solo che, e dopo partiamo con l'analisi La data di video è concentrarsi molto sul pay per view Cioè la gente paga per vedere una determinata cosa Andiamo dai Kick-off, allora due match e kick-off Sono stati due match normali dal suo settimanale Il match tra Almas e Sin Cara è stato leggermente migliore di quello Visto a SmackDown, vinto da Almas Un match normale da kick-off Sanity contro New Day invece è stato un match deludente Mi aspettavo qualcosa in più Però essendoci 6 persone Il fatto che si può rompere solo un tavolo È un po' un deficit per il match Questo è stato anche perché la rotta del tavolo Non è stata neanche a granché Non è stata bruciata, però insomma non è stato a granché come match Adesso vedremo cosa faranno, cosa gli servirà loro nel futuro Main card, se c'è di main card ci può parlare Abbiamo il The Leader of the World Che andiamo subito, che perdono il loro titolo di coppia Con il B-Team, il B-Team che diventa il miglior team in questo momento a Raw Team imbattuto in questo momento a Raw Match da puntata proprio di Raw settimanale Niente mosse nuove, niente mosse combinate interessanti Niente di niente Poi, quindi complimenti al B-Team, non ce lo meritano Poi Ballon contro Corbin, match da 8 minuti Ballon contro Corbin, un match da 8 minuti e venti da puntata settimanale Questa frase la sentirete molto, questo vedi Sì, vabbè, il mio preferito, che dicendo mio preferito Deve perdere, d'obbligo il match Quindi Corbin, ovviamente Vittorio che va a Finbalo Proprio un match da tipico da metà della puntata di Raw Smackdown Che sia Che intrattiene a 8 minuti e venti, niente di che Match che non si dovrebbe neanche fare O farlo ma con disqualification come stipulazione Carmella contro Asuka Ne parlo perché era nel E l'hanno fatto Non perché bisognerebbe parlarne Ma è 5 minuti di match Match o avendo Con James Ellsworth che rimane appeso come Un tarzanello Alla gabbia per pesquali Asuka che lo massacra Carmella che mantiene il titolo Ancora una volta Adesso le contendenti si fanno interessanti Perché c'è tanta concorrenza C'è Naomi Amici e Becky Lynch C'è adesso la neo arrivata a smeritare Niki Kavos che ha dibuttato nel live event Insieme a Becky Lynch Contro le Iconics Due Il Petro Rosa e Billy Kay Vittorio che va a Carmella Complimenti Adesso vedremo cosa riserva a futuro per lei Ah, non sto dando voti Però sarebbero tutti insufficienti Geffardi contro Nakamura Ovviamente senza voto Nakamura che vince il match in 6 secondi Perché ha fatto un low blow a Geffardi All'inizio del match E dopo a King Shasta Unde tra tutti a casa Aveva Randy Orton Calcio nei coglioni Ormai i low blow sono Il pane quotidiano Dalla WWE Scusate Dalla WWE Sì, Nakamura è un nuovo campione degli Stati Uniti Adesso si pronuncia un Come si dice Un triple threat Probabilmente a SummerSlam Già a SmackDown è stato annunciato E l'ha rimesso da Nakamura e Geffardi Comunque sono contento che Nakamura Ha vinto il primo titolo In WLB Inteso come main roster Non come NXT Quindi sono contento per questo Vabbè match che non c'è stato Strowman contro Owens Nello Steel Cage match L'unico momento extreme del PPV Aveva un match da 8 minuti Durante 8 minuti e 5 L'unico momento extreme aveva Strowman Che lancia Come si dice Che lancia Owens Dalla cima della gabbia Dalla cima della Steel Cage Su un tavolo dei commentatori Un momento extreme E questo non c'è niente da dire Senza se Senza se Senza ma Con la regia Quando si stava vedendo il PPV Si parlava Che questo era sicuramente Ed era solo il quinto match Eravamo neanche a metà Si parlava Che questo sicuramente Era move of the PPV Così è stato Anche perché altri momenti extreme Non ce ne sono stati Ovviamente però Strowman si dimentica Che Cadendo per terra E sbattendo sul tavolo Dei commentatori I piedi hanno toccato per terra Quindi Vittoria che involuntariamente Va a Kevin Owens Come avevamo detto Nel video Nel video Nel previsioni Si ecco Match Abbastanza Brutto È stato un match squash Ma aspettavo qualcosa di più La cosa della Come si chiama Delle manette Ovvero Kevin Owens Che lega le manette Lega le corde Con le manette Lega le corde Con le manette Eh no A manetta Vabbè Strowman E tra l'altro Cosa molto Insensata Perché A manetta Strowman Davanti alla porta Cioè l'unica via di fuga Facilissima Che bastava aprire Uscire Non la faccia Bastava manettarla Dall'altra parte Uscire dalla gabbia Però Va benissimo così Ok Ottimo Match Stil cage Da otto minuti Capite che Con Strowman Che domina ogni match Capite che non si può Dare un voto Belagio Valdes Contro il team Hell No O in questo caso Rinominato Dalla regia E da tutti quelli Che hanno visto Il proprio più Con me E con la regia Il team Hell Boh Perché non si è capito Il team Hell No In questo proprio più È stato Dopo Balor Contro Corby Dopo Carmelo Contro Comunque Dopo All'inizio Il momento Nel backstage I Blood Jerm brothers Che massacrano Il team Hell No Nel backstage E Infortunando Anche Kane Arrivano Il Blood Jerm brothers Che è il momento Del match Sesto Nella main card E Arriva solo Dian Brian Si presenta solo Dian Brian Dian Brian Che è fatto A rigolette Il match Inverso Che hanno fatto Che ha fatto Il suo ritorno Ovvero Quello che era Samy Zane E Owens Contro Magmeon E Dian Brian Appunto A resta Mera 34 Magmeon Che fa tutto Il match Arriva Dian Brian Fa due mosse E vince il match Qua è stato Un match Dian Brian A un certo punto Quando tutti erano Fuori da ring Dopo un sushi dive Arriva Arrivata Kane Con un tutore Alla gamba Però ecco Diciamo che Il risultato è stato Un po' diverso Ovvero che Tanto il match È durato Tanto il match È durato 8 minuti Quindi anche Non è una durata Molto alta Come tutti i match Del pay per view E Arriva Fa due Chalkslam Dopo I Bragging Brothers Però Sono intelligenti Tirano Un pestone Alla gamba Di Kane E E perdono Così E vincono I Bragging Brothers Non c'è stato Lo split Tra i due Non ho capito Perché il clean menu È stato messo Nella copertina Nel poster Di Extreme Rules Team Hellbo Veramente Perché Non si è capito Non hanno fatto Niente di che Non hanno fatto Mosse nuove Non hanno fatto Veder niente Non hanno mandato avanti La storyline Del Come si chiama Del Del anello Debole Niente Di niente Team Hellbo Vabbè Reins contro Lesley Main event Da puntata Settimanale 14 minuti 50 Per certezza Vittoria A super Sorpresa Di Bobby Lesley Ma aspettava La vittoria Di Roman Reigns Poteva avanzare Una richiesta Di match Per il titolo Contro Lesley Scusate Che sarebbe Anche un po' Un match Ex MMA Perché tutti e due Uno ci sta per tornare Uno l'ha fatta MMA Cioè Bobby Lesley E anche Lesley Il passato di Lesley Lo conoscono tutti Sarebbe un match Anche interessante Però Vedremo Come andrà a finire Questa sera Perché stasera Tornerà Lesley Comunque Quando è il vittore Di Lesley Il match È normale Tra due bestioni Molto lento Niente di che L'unico Ecco Una delle poche sufficienti Se vogliamo Stiracchiata Stiracchiata Alexa Bliss Contro Nia Jax Match da 7 minuti 30 extreme rules Match Regole L'unico Extreme rules match Di proprio più Vabbè Un match L'unico Ha massacrato Cioè è appena arrivato A Ronda Rousey Mickey James Era proprio in baglie Di Ronda Rousey Ne ha preso Match interessante Carino Proprio un match Da difesa del titolo In un pay per view Di transizione Con un adversario Di transizione È stato proprio un match Dove la Rousey Ha fatto vedere Le sue mosse E non ha fatto vedere Mosse nuove Ecco È stato un pay per view Dove nessuno Nessuno Ha fatto vedere Mosse nuove Nessuno Nessuno Ha fatto vedere Mosse nuove Proprio zero Totale Neanche Zayn Scusate Neanche Zayn Neanche Ziggler Conta Volis Che ha fatto Trenta minuti Di match Niente Comunque Bel match Se vogliamo dare Un voto C'è mezzo Se vogliamo dare Un voto Vittoria Scontata Di Stiles Comunque Rousey Fa una buona Resistenza A Stiles Non ho capito Perché Stiles Ha puntato Tutto il match Sulle gambe Dopo Il fatto Del cuscinetto Di Eden Inglis Alla testa Vabbè Ma aspettavo Sarebbe stato interessante Una vittoria Per sottomissione Di Stiles Dato che Su quello Sembra Puntare il match Un match Da 15 minuti Di 75 Comunque buono Poi abbiamo Il mini event Che è sorpresa È match Per il titolo Intercontinentale Ovvero Ziggler Che difende Il titolo Contra Settevolis Nel Church Mini Chairman Match Mamma mia Che inglese Allora Che dire È stato Un match Vittoria Di Ziggler Con 5 a 4 All'overtime Mai supplementari Anzi È il golden goal Se vogliamo No Cioè Nel senso Non ho visto Nessuno schienamento È stato Oh mio dio Mamma Che schienamento Che ha fatto Cioè Settevolis Che passa 3-0 Subito Ziggler Che rimonta Subito Dopo In 4 minuti Da 3-0 A 3-3 Poi Si va Sul 4-4 Nessuna Mossa Degna Di nota Ognuno Ha fatto Delle proprie Mosse Sarebbe stato Bello Per dirvi La mossa Di Rollins Aveva Superplex E dopo Falco Nero Magari Nel momento Nel Falco Nero A mod di Demis Che è fatto A backless La scala Carasci finale Ziggler Gli passava Sotto O al volo Gli passava Dietro Saltando Gli faceva Zigg Zag O A terra Di faceva Zigg Zag È sempre stato Interessante Vederela Ma ovviamente Chiediamo Troppo Per view Ultimamente Che non sia Un takeover Match Senza Farmi Senza Lode Bel match Bel match Per i lottatori Che sono belle L'overtime Non l'ho capito Sono andati Nell'overtime Con chi Nel carattero Nel carattero Nel 4 a 4 Ziggler Se ne andava via Col titolo Non è che può Anche Due anni fa A roadblock End of the line Con Sasha Banks E Charlotte A 2 a 2 Si è andata All'overtime Ma è una regola Non è che qua Si cambiano le regole Cioè Non ho capito Con che criterio Ziggler Si sta andando via Con dove Cortengo Il salvatore Della patria È una regola Che Se si va Se si va In un Iron Man match Se si pareggia Si va Con un titolo in paio Si va all'overtime È ovvio Comunque Ziggler Che mette 5 5 Si 5 a 0 5 a 4 Cioè Io capisco Che tutti i match Sono durati poco Perché C'era questo match Che durava 30 minuti Allora Però Dopo Quando avevo questo match qua È un match così Io mi aspettavo Cioè Io mi aspettavo Un match bombissima Mi aspettavo Un match da 8 e mezzo Invece niente Da fare Voto del proprio view Ve lo dico già Quattro e mezzo Solo per lo spot Dello steel cage match Di Owens E per Stiles E Ruse Per questo match qua E Bobby Leslie E Reigns Ma neanche tanto Proprio ve lo dico qua Scrivete nei commenti Cosa ne pensate Di questo match Di questo proprio view qua Io non ho altro Da dire Non voglio spendere parole Su questo proprio view qua Diciamo che lo voglio risparmiare Perché Fare una recension Su questo proprio view qua E sparare sulla carrossia rossa Scrivete nei commenti Cosa ne pensate Vi lascio anche qua Facciamo ultimamente Un sondaggio Mettete mi piace Scrivetevi alla pagina facebook Vi ringraziamo Per il vostro supporto 3, 2, 1, 2, 1 e WB Continua a fare queste proprio view qua Be lit Scrivetevi al nostro canale Scrivetevi al nostro canale